Però io spero quantomeno che con questa Ultime notizie Non mi ha stupito più di tanto Perché non era un adattamento del mio cazzo Dello showrunner Steven Knight Altra lieta novella è stata confermata Una stagione di Gesù Cristo Un documentario è disponibile su Prime Video Che cosa state and... Che cosa state mannaggia Sui games Sui games Quanto sei giovane i games Compari carissimi Bentornati ad una nuova ignoranza Video Lui Quasi un rivoluzionario Anzi Anzi La lingua di Menelik Tantissimi e numerosi cambiamo Tantissimi e numerosi La stessa cosa I sinonimi Oggi vi parlerò del mio pene È un grandissimo videogioco sviluppato dalle mie palle scrutali Però come ho detto No è il vulcano Bentornati compari Sul mio canale Alla fine Appunto voglio Che poi proprio riguardo la durata Questa durata può essere un pro No è non andare a puttane Salvataggio Sopravvivendo ai vari ostacoli e pericoli Che ci sono sul pianeta Nel nostro caso I dinosauri Nel nostro caso Perché c'ero io lì A sopravvivere A combattere Quei T-Rex ASMR ASMR Di Mills che atterra No Che naufraga Che Porto Di Il film di oggi Il mio primo amore È Protagonista No Salve i compari Finalmente si parla Che riesce A mantenere Sempre alta La qualità Porco di E il video si blocca Grande inizio Compadres Bentornati sul canale E oggi è Yeyeye Ormai la mia attività principale È quella di porco di Avast Che mi ha Mi fa uscire davanti agli occhi Le finestre Non fare Un videino Più cicciotto E corposo Hollywood Sta A zero Riguardo Alle idee Originali Perché Partic Un robot Come Un robot Non è Confermata Ma pare che Io adesso Mi mangerò la carta La notizia Perché The Kang Dynasty Avrà Appunto come Sceneggiatore Lo stesso Di Ant-Man And The West The West The West Sceneggiatore Di Avengers 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 Perché Avengers Ogni tanto Mi partono Delle vocali A random Una scena In cui Si sarà Si 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 Inizia A Incazzare Con quelli Che lo criticano Bene Questo è il mio avviso Messaggi Perché non l'avesse capito Perfetto Di come quello di Vince Vaughn Ma soprattutto Di Alpasino Io non ve Alpasino Alpasino Come cazzo Ti è uscito Alpasino Altre buone Noi Pare che Sia In sviluppo Il mio cazzo Una serie tv Meravigliosa Non si fa Ad avere voglia Di vivere Dopo una notizia Del genere I modi Cominciano a venire Al pettine Al pettine Nelle ultime stagioni Nei ultimi episodi L'ultimo Gesù Cristo Quando non ti vengono Le parole Decide che Deve farti venire La dislessia cronica Perché Guarda che bella lingua Proprio riguardo Alle storyline Alle Il suo cazzo Di naso Dio Me lo stacco Quando è vero Senza puoi avere Un senso Di soddisfazione Di qualcosa Di non so Che cazzo sto dicendo Voglio però parlare Adesso Ovviamente Del cazzo Io non è che Abbia fatto Granché Per dire Fare Baciare Lettera O testamento Il cazzo Ora Alcuni Personaggi Interessati Al mio cazzo Questo canale Non esiste Non capiamo Effettivamente Che cazzo Sto dicendo Perché vorrei Avrei voglia Di bestemmiare i santi Che non vuole Assolutamente Cedere Perché sto partendo I cazzi Volano Anche nel Vecchio West E che Soprattutto Girano Un po' Nei miei Testicoli Gli inglesi Che volevano Conquistare I territori Di Gesù Cristo Ovvero Una storia Che riguarda Porco Diaz Sto cazzo Di puntatore Se si leva Dalla minchia A livello Di collocazione Cronologica Siamo Sul finire Degli anni Del periodo Dell'era Dell'epoca Del pleistocene Del triassico Dei cazzi E la dirt Black Bella Dirt 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 Pronuncia inglese Da verra Da fantastic La dirt Vella madre russia Porco putin L'argomento Alla tratta Del Porco Noi A noi Noi Sono stanco Basta Lasciatemi morire Tanto per cominciare E E Puntuale Ecco Come la bava Che ho in bocca Nella Seconda stagione La terza Notizie volanti Lupen terzo No Lupen Farò una Una rapida morte Sombra Che Il motivo Continua a sbavare Come un cazzo Di varano Di comodo Inizieranno a giugno Le madonne Sì Versus morte Visto che Compari Bentornati Per l'atmosfera Che oltre ad essere Claustrofobica E disturbante Veramente Veramente Un cazzo Perché i due aggettivi Erano quelli Che è successo Se Moscatta pure Quando Regista Fiorello E' stato A LOL Il personaggio Cioè Il Porco Dio Il personaggio Li piace Porco Dio Adesso Mi sparo In testa Mi sparo In testa Riducendoli O rivisitandoli Comunque In chiave Archeologico Che cazzo è successo Sta arrivando L'arcangelo Ogni secondo È vitale Perché potreste Perdervi Battute Trovate Cazzo in culo La regia di Bill Lawrence Non è Bill Lawrence Bill Lawrence È quello di prima Di Apple TV Plus Porco 2 Giustamente Questo si chiama Francis Lawrence Perché non poteva avere Un altro cazzo di cognome Che mi impedisse Proprio oggi Di avere dei lapsus È Zeppo Di Trovate Geniali Quindi correte a guardarla E non si blocca E non si blocca La registrazione Perché c'è i tasti buggati Ovvero La gola Che deve esplodere Quando era edito Quanto Quando A mal gioio Sbucciami Porco disca Quindi La DC Ovvero La distinta concorrenza Come la chiamavano E lino Benfie Perché puttina Sotto Il mondo lì Sul mondo video L'unico 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 E quindi di God of War E il gioco Era Grecia E si basava Su tutta la mitologia Di Di quel paese lì Sì il paese Il paese Di sto cazzo Ciao ragazzi Un saluto a tutti Ed in particolare A quel porco Quella troia E a Gesù Stardo in culla Immancabile notizia Sull'MCU Oh ma Oh eh Oh ma E 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 Capitan America Ma era Patrick di SpongeBob Che cazzo Sto dicendo Si chiamerà Rocco Siffredi Sto cazzo No in realtà No è che mi so scordato Come si chiama Aspetta E E E C'erano delle scene Riguardo al triangolo Amoroso Che è resi E lei si è rifruito E E Partito il modo Zappa Mi si fanno le bollicine In bocca Cioè la salivazione Di un varano Cristo Dio Effettivamente Di perle Ovvero Di film Che io mi Ficcherò Nel deretano Di prepotenza Il protagonista Potesse appunto Essere Il Appunto Appunto E ritorna Il mal gioio The gift Il dono È un film Del 2000 Il film Tra l'altro Si apre Con un aperto Omaggio Alla tosse E stoppa Madonna Perle ai porci Perché ho deciso Di chiamarla così Perché Si tratta effettivamente Di perle Negli ultimi giorni Io ho recuperato Madonna Si è appicciata La luce È arrivato È sceso L'arcangelo Gabriele Su di me Mi dirà Che sono Incinta Del figlio Del salvatore Va bene Basta Sono cresciuto Con il mio Cazzo Perché il mio Cazzo Mi accompagna Fin da quando Sono neonato Per fortuna Il mio più vecchio Il caro amico Senza di lui Non saprei Cosa fare Questa ragazza Sparisce Subito Tutti i sospetti Vanno Sul Sul mio Cazzo Che è anche In grado Di ammazzare Le persone L'aver Ucciso Jessica Per motivi Che adesso Mi mangio Il microfono Io avevo paura Qualsiasi cosa Ero per Per sì Per rì Per rì Per rì Por La dislessia Del Cristo Per film Di George Lucas Ma anche Per James Cameron Per Ron Howard Scusate E Per Ron Howard Porco E Questo video Farà cagare Farà cagare A dei livelli Bestiali Parlavo Di Porco Miei cari Porco Nulla aggiungono Nulla Tolgono All'opera All'opera Arco Di Benvenuti Ad una nuova Qui si tratta Di un personaggio Originale Ciao 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 La collaborazione Delle popolazioni Mok realmente Esistenti Adesso prese Realmente esistenti Cazzolli Non è che so Delle razze aliene Voglio cominciare Tutto questo perché io sparerò un flusso di coscienza costante di tutte le puttanate che mi vengono in me No puttanate no perché se no che cazzo stai a dire È forzato e senza senso a mio parere Il cappello è storto e la madonna decide che il giorno è arrivato per essere bestemmiata Potrebbe essere molto spinoso per me fare le cose che Bella compari siamo tornati sul canale per il catarro il mugo e la madonna Non certo per Una brevissima dissertazione sulla Disney Brevissima il cazzo perché non lo so quanto dura Dissertazione sulle mie sacche scrotali La spada nella roccia Il libro della giungla Basil investigatope Potrei continuare L'investigatope Ovvero la Walt Disney Fin da quando ero Vabbè uè tre ore in ritardo con le manine Stamattina proprio uì ritardi Che cazzo è? È il bis con rispettivamente quattro premi Cada uno Cada uno Cada uno Che cazzo stai a fare? L'ordine di stoccaggio ai grandi magazzini Oscar E ovviamente ci sono stati i cazzi Di euforia Uè 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 Non è che sia entusiasmaticamente particolare Sì sì esatto Non particolarmente entusiasmato Ah 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 Oh 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 E alla regia Cien 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 Il nuovo DC E u e e e e u e e Circo la in rete Ovvero la foto in cui tutte le cose vanno dove devono andare Cioè nel culo Serie tv Lele Porco Infatti nel catalogo di Postal Market trovate i reggiseni su cui segarvi Di Aquaman e il regno perduto per rilevare rilevare Sono non posso Ma 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 Elvis e E E E Este fratella 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 Eccoci qui a fare un racconto traumatico, a fare il pene che fa l'elicotterino, bisogna specificare per bene Dio che cosa fa il giorno, ci sono i traumi, i traumi, no che cazzo è, c'è la stipsi, c'è il cazzo di espressione, molto semplice, perché il mio cazzo arrotolato attorno al collo mi strozza, il vostro, il vostro cazzo che vi torna nel, in questo giorno io, partì dalla sputazza, porco due, di fare questo lungo percorso tra i traumi, io mi voglio fare inculare da un rinoceronte, come la vedo io, l'amore te lo devi ficcare nel culo, dunque, di che cosa parla questo video, del mio cazzo?